Mi ero ripromesso di non scrivere nulla, ma devo venire meno a questo impegno. Inizia così il post su Facebook con il quale Giorgio Cicciarella, studioso e appassionato d'arte, esperto per il patrimonio artistico e culturale del Comune di Vittoria, spiega la sua posizione e difende la scelta di sistemare il quadro donato da Giovanni Robustelli alla città nella Sala Quarto Stato, togliendo la celebre stampa. Consiglieri comunali, partiti, ex amministratori, storici, tutti hanno bocciato l'iniziativa. Che, per il professore Arturo Barbante, che quella stampa a Palazzo Iaco non l'ha voluta, ai tempi della sindacatura di Francesco Aiello nei primi anni 2000, simboleggia la cacciata della classe popolare e dei contadini dal palazzo. Come sempre, quando si respira aria di cambiamento, e scendo in campo per prestare un servizio alla mia città, i veri reazionari iniziano a delirare, scrive Cicciarella. Abbiamo cercato di rendere omaggio a uno dei veri collanti della nostra città, il nostro patrono, a cui certamente non poteva intitolarsi uno sgabuzzino o un corridoio, né tantomeno la Sala degli Specchi, l'unica vera sala storica lasciata così dagli Iacono. Si è deciso quindi di rivalutare una sala del palazzo comunale poco utilizzata dal potenziale represso. Per Cicciarella sbaglia il professore Barbante quando minimizza il valore di quella sala solo perché era da pranzo e per questo non avrebbe nulla di sacro. Proprio lì, infatti, c'è la piccola cappella del palazzo ed è stata proprio questa ad essere determinante nella scelta a suggerire la nuova intitolazione della sala. Siamo così a suoi fatti al brutto e allo sgradevole, scrive ancora Cicciarella, che anche una riproduzione di bassissima qualità diventa uno splendido dipinto. Nessuno è stato buttato fuori, conclude. Nessun valore, nessun cittadino. Attendete la presentazione della sala, poi scatenatevi.